E' finalmente arrivato il primo decreto atteso sull'uso del Green Pass per l'accesso ad alcuni luoghi che tornano finalmente a poter ospitare i cittadini, gli interni dei ristoranti in questo momento, i teatri, i cinema, gli stadi. Ancora non è stata presa una decisione viceversa per l'accesso nelle aziende, nei luoghi di lavoro, nelle scuole, sui trasporti pubblici. E' un tema molto delicato che va a toccare sicuramente delle scelte della libertà personale, la privacy delle persone, ma dobbiamo con altrettanta nettezza dire che in questo momento quello della vaccinazione estesa è l'unico vero antidoto di cui disponiamo per non dover tornare indietro, non dover tornare di nuovo a chiudere. Quindi dal punto di vista delle imprese, soprattutto delle piccole imprese che noi rappresentiamo, noi ci sentiamo di esprimere un invito naturalmente a tutti a sostenere la campagna di vaccinazione, a scaricare il proprio Green Pass, io l'ho fatto, questo è che sono menevanto di poterlo disporre e poterlo presentare dove sarà necessario per poter accedere appunto ai luoghi pubblici, sapendo che il principale nemico da configgere in questo momento anche per l'imprenditore è la ripresa della pandemia ed è il temuto ritorno ai giorni del lockdown. L'unica garanzia che abbiamo per non tornare a queste scelte è poter sostenere una ripresa che ci sembra di cogliere in questi giorni, queste settimane, essere finalmente intensa, decisa e finalmente dare delle prospettive di crescita al nostro Paese, ecco dicevo l'unico sistema per non tornare indietro è quello di vaccinarci. Con questo appello quindi saluto tutti gli imprenditori, ribadisco con l'intesa naturalmente di rispettare poi le scelte personali di tutti ma sapendo che c'è poi un bene collettivo da tutelare e questo bene collettivo non può che venire da quella immunità di massa che solo la vaccinazione ci può consentire.